NGC 2261 è una nebulosa situata nella costellazione dell'unicorno posizionata su una stella variabile. La stella e la nebulosa assumono una forma di una vera cometa osservabile già in un telescopio da 70-80 mm. La cometa apparente, da cui il suo nome, nebulosa variabile di Able, ha una luminosità variabile con un periodo di circa un anno, e la sua variazione è di circa una magnitudine. Già con un Dobson da 250 cm, a 100 ingrandimenti appare abbastanza contrastata, e ingrandendo di 180 volte, appare un po' più debole ma in compenso si può percepire la sfumatura che degrada verso l'alto e composta da diversi chiaroscuri nella regione centrale della coda. La nebulosa in modo indipendente alla stella eccitatrice dei gas è una nebulosa che varia di molto la sua morfologia ed in modo indipendente dalla variazione di luce della sua stella compagna. Quindi anche visualmente, utilizzando il medesimo strumento e lo stesso ingrandimento ad ogni seduta osservativa, mensilmente sarà possibile disegnare la variazione dei chiaroscuri e della sua forma che vedremo variare parecchio con il passare dei mesi.